Musica Curioso che tutti cerchino carta e penna, che Granelli, l'assessore, scriva, che altrettanto facciano i rappresentanti delle associazioni che si occupano di Rome e Sinti. Lettere che si rincorrono, quasi si inseguono. L'inverno, il freddo, per fare un esempio, che per qualcuno è un motivo per sgomberare il campo di via Brunetti e per altri rappresenta una ragione opportuna per fermare gli sgomberi dei campi abusivi. Realtà diverse, punti di vista lontani, Granelli insiste nell'affermare che il comune ha fatto tanto, ha cambiato mentalità e approccio, sgombera ma non abbandona, concede, salvo casi particolari, un'alternativa, percorsi di accoglienza e integrazione, un'attenzione che gli altri, quelli che hanno governato prima, manco prendevano in considerazione. Ma c'è il punto di vista, dicevamo, c'è chi si aspettava ben altro. Le associazioni chiedono di fermare gli sgomberi, sostengono che i posti messi a disposizione sono pochi, 268 tra via Barzaghi e via Lombroso, per citare i loro conti, che immaginare che in 200 giorni, il limite massimo di permanenza nei centri, i Rom possano essere entrati in un circuito che permetta loro di trovare una casa, un lavoro e una scuola per i propri figli, somiglia davvero a un'utopia. Punti di vista, dicevamo, che rivendicano progressi, aperture e disponibilità, che ricordano pregiudizi difficili da superare, numeri che non tornano, speranze disilluse. Una cosa è chiara, sempre di più, la questione Rom è difficile da affrontare, è ruvida davvero. Servirebbe un compromesso, quello che Granelli sta cercando e fatica a trovare, stretto nella morsa di chi lo critica per il suo lassismo e chi lo reputa troppo duro. Oggi un altro sgombero, 15 adulti e 8 bambini allontanati da uno stanziamento in via Cusago, zona Baggio. Dice, anzi scrive, che esiste una strategia Granelli, che in quel piano c'è accoglienza, ma consapevolezza che quello schema, quello dei campi abusivi, quello dei bimbi alla diaccio, va scardinato, rifiutato. Un lavoro che ci si augura possa avere successo, sfiancando loro, i Rom e chi li vorrebbe fuori, lontani, via. Certo è che la strada per il compromesso non è ampia e neppure dritta, di questo bisogna prendere atto. È facile, quasi scontato, sbagliare una curva.